In Italia continua a preoccupare l'andamento dell'influenza che nelle ultime settimane continua a circolare con forte intensità e sta riempiendo reparti e terapie intensive anche di casi seri. Lo conferma l'ultima rilevazione della rete sentinella della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere. La pressione sugli ospedali non accenna a diminuire per via dell'influenza, spiega il presidente della Fiaso Giovanni Migliore. Stiamo purtroppo vedendo polmoniti gravi non dovute al covid ma alle conseguenze dell'influenza anche nelle terapie intensive. Dobbiamo essere ancora prudenti poiché nelle prossime settimane vedremo anche sugli ospedali gli effetti della riapertura delle scuole. La discesa del covid invece continua, calano bruscamente i ricoverati con covid, pazienti in ospedale per altre cause ma risultati positivi al coronavirus, segno di una riduzione anche della circolazione del virus SARS-CoV-2. I ricoverati in genere sono pazienti anziani e quasi nella totalità dei casi hanno altre patologie che aggravano il quadro clinico. Non ci sono invece i bambini in terapia intensiva mentre i ricoveri pediatrici che hanno soprattutto tra 0 e 4 anni sono in calo del 15%. Per cento Pf